Ad ascoltarlo per l'analisi di questa partita sognavi, ti aspettavi un esordio diverso con la maglia del Pescara è arrivata questa sconfitta, una brutta sconfitta Sì, sicuramente sognavo un esordio diverso purtroppo la partita è andata così abbiamo molto da recriminare perché probabilmente non ce la siamo giocata al massimo delle nostre potenzialità però bisogna anche ammettere che c'era una squadra in campo in Lecce che il primo tempo ci ha messo parecchio in difficoltà Dopo i due gol è stato molto difficile per noi cercare di giocare la palla Fisico o difficoltà tattica secondo te Giovanni? Secondo me entrambi loro sembravano che andassero il doppio di noi è sensazione mia e poi non ho sensazione che si avvertiva dal campo a livello tecnico loro cercavano sempre le imbucate molte volte ci riuscivano e creavano il 3 contro 2 superiorità numerica oppure la palla alta sulla mantia e ci mettevano parecchio in difficoltà Parlavamo anche con Ciofani qualche istante fa Ennesima sconfitta Sott'è uno scontro diretto Ennesima sconfitta in trasferta Cosa c'è che non va? Io sono arrivato da poco e ciò che posso dire è che a volte fuori casa almeno le partite fatte fuori casa sembrano differenti rispetto a quelle fatte in casa non so se sia una questione mentale oppure magari di non lo so l'ambiente che condiziona però giocare fuori casa comunque non è facile soprattutto anche qui perché loro incalivano da un 7 a 0 importante erano molto galvanizzati anche il pubblico che li spingeva però adesso rimbocchiamoci le maniche perché mercoledì c'è un'altra partita importante inutile recriminare andiamo avanti